Su questo passaggio molto importante delle istituzioni alternative, delle nuove istituzioni, diciamo che la creazione di consenso deve sicuramente avere un piano progettuale, quindi il non affidamento al meccanismo della rappresentanza, ma per fare questo c'è bisogno di creare quella soggettività attorno a cui si condensa il consenso, quindi c'è bisogno di trasformare la mentalità e la cultura politica delle persone affinché non affidino le sorti della propria vita a un leader, fondamentalmente. E questo è ovviamente possibile, giusto che Gramsci è uscito fuori tantissime volte, se si ha una trasformazione molecolare, quindi se si ha una trasformazione che parte dal basso ventre delle società, da quel popolo profondo. Io volevo fare un'ultima riflessione con Francesco rispetto a questo punto qua, nel senso che se il populismo, sempre nel suo format standard, un po' astratto, si basa su un'universalità che deve essere rappresentata da un corpo, abbiamo detto un leader carismatico, un nome, un'espressione, alla fine effettivamente il populismo è la nominazione, cioè il processo di dare un nome a un oggetto in maniera tale che quell'oggetto possa essere un'universalità. Però non deve avere nessun tipo di significato prestabilito questa universalità, perché altrimenti come faccio a unire gli oppressi dei migranti insieme agli oppressi, appunto della casta o del potere politico, se il nome ha già un significato che esclude una delle due parti. Ci sono però, secondo noi, delle esperienze che invertono il processo stesso, appunto descritto dal populismo. Io faccio l'esempio materiale, anche molto recente, del comitato No Grandi Navi, visto che la stessa comunità di Sherwood e dei centri sociali qua a nord-est è animata anche dalle realtà veneziane che sono attive dentro il comitato. Due settimane fa c'è stato un referendum popolare che non ha valore legale, però ha avuto un alto valore politico, per cui quasi 20.000 veneziani si sono espressi contro il passaggio delle grandi navi e si sono espressi contro la costruzione di nuovi canali in laguna, per il passaggio delle grandi navi. Attorno a questo interesse particolare, appunto fondato sulla specificità delle grandi navi, sono confluiti diversi interessi che appunto hanno chiamato ad un'altra immagine di Venezia, un'altra immagine di Venezia libera dal turismo massivo che aumenta i prezzi degli affitti, un'altra immagine di Venezia contro la gentrificazione dei quartieri, contro lo spopolamento, eccetera, eccetera. Ecco, questo tipo di processo sembra appunto l'esatto contrario, cioè che da un interesse particolare, senza togliere il significato di quell'interesse particolare, che comunque ha un'avvertenza molto specifica, che significa appunto non vogliamo le navi e non accettiamo nessun tipo di compromesso su questo, si è dato poi una mentalità, una sensibilità comune alla città, che non c'entra niente col nome, nel senso che il no grandi navi non ha dovuto far finta di essere quello che non era, non ha dovuto far finta di non pensare alle grandi navi per poter vincere comunque. Ecco, questa cosa qua, secondo noi, potrebbe essere un'indicazione rispetto a come si può costruire un popolo di parte, quindi un popolo che non rinuncia al prendere posizione su alcune cose, che potenzialmente è inclusivo e che soprattutto attraverso questa costruzione del popolo si può fare un nuovo consenso e anche dare nuove forme di organizzazione, come del resto un comitato rappresenta in sé, visto che non ha meccanismi appunto di rappresentanza senza vincolo di mandato, eccetera, eccetera. Sì, mi pare che la questione sia come provare a costruire un popolo senza gli strumenti del populismo o comunque come intervenire nel momento populista con strumenti di autentica democrazia. E riguardo a questo mi viene in mente il dialogo tra Rancière e Laclau che abbiamo tradotto nel numero che ho curato sul ponte e che online trovate sul sito Effimera dove quando Laclau e Rancière discutono sulla costruzione del popolo Rancière a un certo punto non parla più di popolo ma parla di senza parte e recupera l'idea di Demos. Questo per dire che mi sembra che questa sia una fase cioè che per intervenire sul momento populista si debba pensare di più all'organizzazione, si debba pensare più all'educazione politica all'interno dei movimenti. Ad esempio la questione delle grandi navi è un conflitto reale e che si collega anche ad altri conflitti e ad altre questioni della città di Venezia come tu hai detto dalla gentrificazione al turismo di massa eccetera eccetera però non è usato strumentalmente cioè è un movimento che è radicato, reale e che non immagina nessuna strategia comunicativa manipolativa come la pensa il populismo e penso appunto per rifarmi anche alla questione di Podemos che diceva Manuel che in Italia si sente molto dire facciamo come Podemos, facciamo come in America Latina eccetera eccetera però Podemos e quell'avanguardia di intellettuali aveva un movimento vastissimo aveva la lotta per la casa contro gli sfratti aveva diversi mobilitazioni urbane per il diritto alla città e quindi quell'avanguardia intellettuale aveva comunque un'organicità con il movimento e era un intellettuale organico, non organico a un partito ma organico appunto ai senza parte a coloro che erano esclusi, alle vertenze dei precari, dei disoccupati, di chi non aveva lavoro e ecco credo che appunto anziché mettere il carro davanti ai buoi e pensare a un'organizzazione populista di sinistra che possa unire le lotte tenere buono il ceto politico eccetera penso che sicuramente dobbiamo sviluppare anche noi delle equivalenze però dando dignità a tutti i conflitti e mettendo insieme questo puzzle dei conflitti reali che ci sono nella realtà senza pensare quella manipolazione spettacolare del linguaggio che appunto trasforma a livello postmoderno i conflitti reali credo che ci sia da far vivere la società, che ci sia da educare la società e a parlare anche con quel ceto medio impoverito che va a destra ma non a parlargli con gli strumenti del populismo ma a parlargli cercando di fargli comprendere la complessità perché siamo di fronte a una complessità ben chiara e il populismo da questo punto di vista semplifica e mi viene da dire che forse dobbiamo trovare delle strategie non populiste ma popolari penso al film di Ken Loach Io e Daniel Blake dove da regista mette di fronte allo spettatore i danni del neoliberismo e tutta quella microfisica del potere burocratico che si instaura con la fine del welfare state ecco forse dobbiamo riuscire a recuperare anche a livello politico magari un linguaggio sì più semplice dobbiamo riuscire a trovare nuove modalità però appunto mantenendo da un lato la complessità che abbiamo di fronte e dall'altro lato appunto soffiando sul fuoco dell'organizzazione, dell'educazione politica prima di ipotizzare ipotesi come Podemos per riuscire a costruire perlomeno un movimento forte come quello che c'era in Spagna poi ce la giochiamo e vedremo come giocarcela a livello politico